Kinder e Ferrero Multimedia presenta Un unico Ricco di emozioni e di colpi di scena Una videocassetta che avrete in regalo nelle confezioni da 20 e da 15 pezzi Delle merendine Kinder e Ferrero Potete anche connettervi con i vostri eroi sul sito www.lunes.it E c'è di più Da settembre li troverete in tutte le confezioni di merendine Kinder e Ferrero E nelle confezioni famiglia delle merende fresche Kinder Asci, Tupa e Lunes Magici e luminescenti come la luna E i loro perfidi nemici I Moral, XX e i terribili Arathas E adesso ragazzi si gioca!